Un progetto da 4 milioni di euro per la videosorveglianza in città e non solo, ben 879 telecamere, 476 in città, 403 nelle frazioni, progetto finanziato dal fondo complementare del PNRR che vedrà la control room al comando di polizia municipale, postazioni nelle sale operative di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Copriremo un'area di circa 473 chilometri quadrati, cioè tutta la città dell'Aquila, non soltanto il centro storico, la città intesa come città insieme, anche tutte quante le frazioni, le vie d'accesso, i parchi principali, monumenti, luoghi di aggregazione pubblica, progetto case, una copertura pressoché capillare su tutto il territorio condivisa ovviamente con le forze dell'ordine che hanno dato anche le loro indicazioni. Entro il 2023 il progetto sarà al 25%, entro il 2024 si arriverà al 50%, mentre si avrà il completamento entro il 2025 con telecamere di tre tipologie. Ad illustrare il progetto sono state appunto l'assessore Fabrizio Taranta e il sindaco per Luigi Biondi con i rappresentanti dei Vigili Urbani e delle Forze dell'Ordine. Avremo una service room in cui le immagini verranno registrate per sette giorni, 24 ore su 24, la possibilità di visionare attraverso il comando di polizia municipale le immagini di tutte le telecamere in diretta 24 ore su 24, così come presso la questura e i comandi di carabinieri e guardie di finanza. Quindi un aspetto importante a garanzia della sicurezza dei nostri cittadini, un percorso iniziato da tempo sul quale abbiamo lavorato molto e oggi finalmente grazie all'approvazione il 20 luglio presso il Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza in Prefettura, quindi che ci ha dato il nulla osta per proseguire e che ha validato sostanzialmente quello che è il progetto definitivo. Adesso avremo finalmente la possibilità di vederlo realizzato in città e di iniziare i lavori.